In un evento online, in diretta da Milano, Caviro ha presentato la seconda edizione del bilancio di sostenibilità. Valorizzare ogni risorsa per disegnare un futuro migliore e più responsabile, l'obiettivo che Caviro persegue secondo tre direttive. Sostenibilità ecologica, ovvero il modello virtuoso di economia circolare. Sostenibilità economica, perché i bilanci di Caviro riflettono solidità e consentono progetti a lunga scadenza. E sostenibilità etica, perché gli effetti dell'impegno del gruppo si riverberano positivamente sull'indotto di tutta la filiera e sulla comunità. Il bilancio di sostenibilità è uno strumento che serve per dare evidenza a quegli aspetti meno in luce nei bilanci classici che siamo tenuti a fare, che siamo obbligati a fare, ma non di meno meno importanti. Sostenibilità per noi significa responsabilità, specialmente responsabilità verso il futuro. E quindi con questo strumento noi cerchiamo di mettere in prima linea quelli che sono gli aspetti ambientali, quelli che sono gli aspetti sociali e quelli che sono gli aspetti economici, economici o per meglio dire reddituali, per noi che siamo una cooperativa, quindi economia per noi significa prima di tutto il reddito, ovvero il lavoro dei nostri soci. Fra l'altro sappiamo tutti, noi siamo un'azienda impegnata da tanti anni a fare economia circolare e sostenibilità, la novità se vuole è che adesso abbiamo cominciato a comunicarlo in maniera efficace, strutturata, organica e questa è la seconda edizione, che peraltro facciamo anche questa qui a Milano, nonostante il periodo come giustamente è stato detto così difficile per tutti noi. Il motto che ci guida è questo, fare le cose vecchie in modo nuovo, viene dalla nostra tradizione contadina, l'ha richiamato il Presidente, il Direttore Generale del gruppo e noi cerchiamo di portare qualche cosa in più del valore aggiunto in prassi e abitudini e metodi che regolano la vita dell'uomo da tanti tanti anni. Parlando di qualcosa di attuale, perché noi recentemente abbiamo fatto tanti progetti dal biometano, siamo stati il primo impianto di biometano da scarti delle filiere agroalimentari attivate in Italia, più recentemente abbiamo dato vita proprio in questi giorni a un impianto di catture e recupero della CO2. È un impianto innovativo ed è un piccolo cerchio dentro la più grande economia circolare, perché che cosa avviene? Noi ritiriamo da tutte le filiere agroalimentari i reflui, gli scarti delle loro produzioni, li depuriamo in modo totalmente naturale dentro questi contenitori, grandi serbatoi con dei batteri che digeriscono e producono biogas. Il biogas viene passato in impianti di upgrading e diventa biometano, ma da qui c'è una corrente di CO2, CO2 che è totalmente rinnovabile, ma che però invece di mettere in atmosfera, noi passiamo in un altro impianto che la comprime e la porta a temperatura a meno 30 gradi e qui viene veicolata di nuovo nell'industria alimentare. Le dico solo l'ultima cosa interessantissima di questi giorni, non solo industria alimentare per le dante gassate, ma adesso anche farmaceutica come ghiaccio secco per mantenere i vaccini e i medicinali. Fare economia circolare è anche un buon business, conviene a tutti, all'ambiente, ai nostri soci e anche ai nostri clienti. Porteremo loro un prodotto nuovo sicuramente meno costoso di invece un prodotto fossile. Un'altra area in cui stiamo disegnando il nostro futuro è collaborare di più, sempre per tornare al tema delle contaminazioni, con istituti di ricerca e università. Quanto più riusciamo ad allargare lo spettro delle nostre iniziative, ad avere scienziati, ricercatori e altri imprenditori che parteciperanno al nostro modello, tanto più riusciremo a riutilizzare scarti o nuove sostanze per portare nuovi prodotti e servizi sul mercato. Noi siamo in Romagna, quindi lavoriamo molto in Emilia Romagna, con l'Arna Mater Sudiorum di Bologna, ma sono diverse le università con le quali collaboriamo. Terzo obiettivo? Terzo obiettivo è raccontarci un po' di più, raccontarci nel senso di portare avanti il messaggio che per Caviro gli scarti sono i veri nostri gioielli. Lanceremo una campagna chiamata Valore, dove presentiamo i nostri gioielli. Qui ne vediamo uno, questa è la buccia di un'uva che è passata attraverso il sistema che produce il vino, quindi è stata pigiata, si chiama la vinaccia, e questo, il riutilizzo di tutta la vinaccia e non solo, anche della feccia degli sfalci di portatura, porta a un risparmio di 82.000 tonnellate all'anno di CO2 per il sistema. Con l'uva facciamo il vino, con gli scarti miglioriamo il mondo.